Don Peppino Mustacchio, da dove parte questa volontà della parrocchia, una peraltro delle storiche della provincia di Latina, la più storica di Ferracina, di approdare su internet? Mi sono detto perché non raggiungere i giovani attraverso il loro mondo, entrando nel loro mondo e quindi prendendo il loro linguaggio. Ne ho parlato con i miei collaboratori e anche noi da un anno circa abbiamo creato una pagina di Facebook e mi sono accorto che grazie alla pagina di Facebook le nostre attività vengono anche così diffuse, vengono pubblicizzate, è un modo anche per raggiungere tante persone e abbiamo visto che c'è una buona risposta. Alcune persone tramite Facebook hanno cominciato a venire in chiese, insomma, anche a conoscerci, a conoscermi, quindi Facebook è stata un'occasione per avvicinare alcune persone a noi. Questa è una sua iniziativa privata, pensa che comunque la chiesa in generale abbia bisogno di una sorta di svecchiamento? Credo che la chiesa più che svecchiarsi debba rigiovanirsi.